Un corso di volo virtuale, che significa? Oggi alle 16 presentiamo questa sesta edizione del corso di volo virtuale e tecnologie aeronautiche. L'abbiamo sin dall'inizio battezzato virtuale perché ci avvaliamo dell'utilizzo di un simulatore di volo che questa scuola ha comprato alcuni anni fa per tutta la parte di addestramento circa il volo cosiddetto strumentale. Questo perché l'addestramento dei piloti e anche professionisti ormai avviene interamente al simulatore di volo. Una macchina che consente, facendo risparmiare l'utilizzo dell'aereo reale, di non solo prepararsi a fronteggiare tutte le possibili emergenze in volo ma anche per effettuare il passaggio macchina da un tipo di aeroplano all'altro per i piloti che seguono la loro carriera professionale. Quindi anche noi dopo sviluppare tutta la parte teorica dai principi del volo alla meccanica del volo, ai principi di aerodinamica e così via poi passiamo appunto allo studio delle procedure strumentali, per esempio un decollo strumentale da Catania o da qualsiasi altro porto del mondo e seguendo le cartine aeronautiche di passo passo realizziamo la procedure al simulatore. In questa maniera i nostri corsisti si rendono conto in maniera assai più efficace di come effettivamente avviene la condotta del volo. Tutto questo lo si fa con l'ausilio di numerosi esperti che vengono da più parti d'Italia, quindi piloti, controllori di volo e vari docenti universitari o anche esperti alla manutenzione aeronautica che è un altro settore che offre possibilità di lavoro. Insomma il concetto è gettare uno sguardo lungo, se possibile anche profondo, sull'intera problematica del trasporto aereo. Quindi non solo dal punto di vista sportivo, dal punto di vista anche commerciale, dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista anche delle compagnie di volo. Chi può partecipare? Fondamentalmente noi dedichiamo questa azione dal punto di vista didattico ai nostri ragazzi, ma viste le richieste ogni anno lasciamo aperta una finestra d'ingresso anche a studenti di altre scuole, studenti universitari e anche a qualche adulto.